buongiorno amici benvenuti in un altro video dal credendario sono a parlarvi di questo scooter orwin sk1 e il fratello minore dell'sk3 che vedremo in futuro nonché 1 125 l'sk3 ma questo l'sk1 è un cinquantino le dimensioni tra uno e l'altro sono uguali cambia solo oltre ovviamente la velocità il motore in questa lezione cinquantino abbiamo come vedete il motore sulla ruota come potete vedere qua sulla ruota 2000 watt 3000 di picco 3000 watt di picco mentre l'altro abbiamo un motore centrale a catena ma lo vediamo poi prossimamente ora parliamo dell'sk1 ho iniziato con l'sk1 per un semplice motivo perché è più facile andando piano prendere un mezzo che va più forte perché se prendo un mezzo che va più forte tipo l'sk3 andare sull'sk1 poi mi diventa più difficile giudicare diciamo nella guida dimensioni come vi dicevo prima sono identiche e trovo uno scooter veramente e vi dico finalmente mi piace tantissimo perché ha una linea diversa dal solito molto spigoloso a me piacciono linee spigolose non tonde come tanti sono adesso un pochettino come vedete dal muso comincia a essere aggressivo essere un mezzo che si identifica finalmente sull'impronta elettrica perché perché lo vediamo che è diverso dal solito questo faro aggressivo questo muso vedete molto snello devo dire che quindi per la città è veramente ottimo perché poi pesa solo 115 kg ed è veramente maneggevole ragazzi maneggevole batteria estraibile 72 volte 36 watt possiamo aggiungere una seconda batteria che dopo andiamo a vedere sotto sella nella sotto sella con una batteria possiamo mettere anche un casco integrale ma lo verifichiamo dopo ruote da 14 molto generose come potete vedere qua 180 da 14 anteriore mentre andiamo sul posteriore 120 70 14 doppio ammortizzatore posteriore come ho detto qua regolabile solo in precarico della molla e disco anteriore e disco posteriore come frenata ben curato devo dire un bel curato economico perché non costa tantissimo costa 3000 qualcosa poi mi metto il prezzo su a quel prezzo che ho detto ha veramente tutto dalla retromarcia alle quattro frecce addirittura il lampeggio per la bagliante un bellissimo display che si vede non so bene al sole ma farò la prova più tardi per vedere sperando che ci sia sole perché sono giornate un po brutte ma si deve devo dire che siete veramente bene e ben curato come dicevo prima tre modalità parking e anche mi piacciono molto come vedete qua i serbatoietti del freno è veramente ben ben curato e oltre come linea vi dico che è ben fatto dopo vi faccio vedere i particolari insieme allo scooter ovviamente cinquantino possiamo guidarlo 14 anni omologato per due persone ok ora andiamo a vedere insieme allo scooter vi danno questa scatola qua cosa c'è nella scatola abbiamo ovviamente il mazzo di chiavi due telecomandi con l'antifurto e non solo possiamo accenderlo anche con telecomando come vedete qua non ho ancora montato a gli specchietti ma gli specchietti ormai sono classici più o meno su tutti i modelli ho visto che sono circa sempre uguali ok adesso li andrò a montare così quando faccio il giro abbiamo gli specchietti montati e oltre gli specchietti abbiamo il librettino un manuale uso e manutenzione che spiega un po di cosettine come vedete per il tagliando anche eccetera e abbiamo ahimè purtroppo il caricatore esterno un caricatore esterno perché ovviamente con la batteria estraibile ci va il caricatore esterno e c'è poco da fare caricatore esterno da 8 ampere possiamo caricarlo direttamente su uno scooter o prendendo la batteria andiamo a vedere come funziona allora intanto appoggio questo giù ok andiamo a vedere sotto la sella quanto spazio abbiamo con una batteria ovviamente perché mettendo la seconda batteria abbiamo meno spazio quindi apriamo sotto la sella troviamo come vedete la batteria con questo cavo e questo connettore proprietario basta tirare giù la linguetta e sfilare vedete il cavo devo dire che come vedete come spiotto è davvero molto generoso questo connettore che vedete qua invece è per poterlo caricare dal caricabatteria che abbiamo visto prima quindi carichiamo o direttamente sulla batteria oppure adesso poi vi faccio vedere dove si carica sul mezzo non è bloccata da niente una volta tirata sulla sella vedete che ha questi due blocchi una per batteria va a schiacciarla quindi non la muove vedete eccola qua questa è la batteria basta la mettere insieme così e siamo a posto e bloccarla in questo modo qua andiamo a vedere se ci sta un casco incominciamo con un classico jet lo buttiamo dentro e come vedete tranquillamente si chiude quindi spazio ne abbiamo con un integrale oltretutto questo qua mio è un po più grosso rispetto di standard però come vedete anche questo tranquillamente ci sta sella chiusa l'apriamo e quindi ci sta tranquillamente anche un integrale sotto la sella non c'è più niente possiamo chiudere tranquillamente molto comoda e ampia per due persone anche per una come vi dicevo prima eccolo qua qua abbiamo lo spinotto del caricatore esterno eccolo qua spinotto che come vi dicevo prima vedete va messo lì oppure sulla batteria in caso se noi dovessimo portarla in casa un'altra cosa che voglio farvi vedere abbiamo il gancio per le borse non è delicatissimo neanche robustissimo devo dire che è un buon compromesso di qua abbiamo uno sportellino questo qua come al solito sono ballerini e all'interno qua abbiamo un po di spazio per il nostro cellulare e qua così abbiamo una usb per caricare il nostro device proprio qua per chiudere basta fare così non ha la chiave quindi non dobbiamo lasciare niente dentro perché ovviamente si potrà aprire sempre in qualsiasi momento cosa che non è piaciuta la chiave la chiave la trovo un po obsoleta come vedete ha il blocco se diciamo questo tasto ci evita di mettere una chiave sforzarlo io non ho trovato un blocco a sterzo quindi una cosa stranissima mi rimane sempre libero non ho capito il motivo con il culo della chiave vedete fatto in questo modo esagonale andremo aprire lo sportellino dove noi andiamo poi a riaccendere lo scooter se io giro così apre la sella non ho trovato nessun modo per bloccarlo ecco perché col telecomando si può anche avviare perché non avendo il blocco si avvia e si parte anche senza chiave non so questa la trovo un po una stupidaggine altre cose interessanti intanto al cavalletto sia laterale che quello centrale che non è male ovviamente omologato per 45 chilometri orari ma in realtà poi vi farò vedere perché ho un trucchetto e quindi ve lo svelerò nella prova guidata vi faccio vedere intanto tutto il reparto comandi molto semplicemente così come è anabagliante tiriamo su abbagliante ma lo viene anche mostrato con una spiglia dedicata e in giù fa il lampeggio freccia di sinistra freccia destra purtroppo dobbiamo ritornare noi non si può schiacciare clacson quattro frecce questa parte qua abbiamo la retromarcia quando premiamo viene una r vedete piccolina lì p di parking quindi prima di partire noi schiacciamo la p ci da ready se noi schiacciamo vedete praticamente non non parte quindi schiacciando la p ready se teniamo premuto r accelero va indietro e devo dire che va anche una velocità abbastanza giusta se lascia ovviamente va avanti e le tre mappature una segniamo qua due e tre devo dire che è abbastanza completo qua ovviamente ci segna in questo caso la percentuale della batteria chilometri è nuovo vedete zero perché è proprio nuovo di pacco oltretutto non ci sono neanche informazioni sul sito della ruina in italia proprio il primo che arriva e questo qua purtroppo non ho capito perché come tanti mezzi sembra un orologio ma in realtà è un segnatempo ogni volta che lo usiamo ci dice il tempo che stiamo in movimento è un po' una stupidaggine a meno a me questa roba proprio non piace neanche un po' ok tolto quelle proprio due cosettine proprio queste due cosettine che superficiale diciamo devo dire che il mezzo merita parecchio è veramente bello 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 guardatelo con questo indicatore integrato ma poi ragazzo fusolato così stretto e fighissimo ovvio questo è un cinquantino questa protezione non è che faccia granché diciamo che solo esteticamente anche sul 125 125 dato per 90 km orari ma anche lì c'è un trucco che credendario poi vi farà scoprire che andrà di più comunque tolto questa cosa qui come vedete la parte anteriore eccolo qua spigoloso a chi è amante ovviamente dei mezzi spicolosi perché non è che siamo tutti amanti dello stesso dei stessi mezzi parte posteriore un bel faro un bel faro aspetta che spegniamo le frecce e come vedete lo stop eccolo qua luce targa molto semplice anche qua un bel parafango in modo che ci para dagli spruzzi d'acqua quindi non abbiamo problematiche doppio sospensione come vi dicevo prima motore alla ruota lo vedete lì e poi di l'altro hanno fatto queste due coperture che siamo un po' un finto mezzo termico diciamo così un bel maniglione posteriore così il passeggero si può grappare bene ecco forse l'unica pecca questo maniglione l'ha rifatto un po' più stile come scooter come lo scooter scusate non proprio così però vabbè a gusti devo dire che comunque tutto sommato non mi dispiace salendoci sopra la pedana è abbastanza comoda abbiamo la pedalina per il passeggero posteriore che basta fare così si sbloccano e si bloccano e devo dire che la sella è comoda come dicevo è anche larga ed è un po' più sollevata rispetto il mezzo allora che adesso sul cavalletto comunque siamo proiettati sul davanti nel senso siamo un po' così alcune però devo dire tutto sotto controllo cosa che mi è piaciuta veramente parecchio sono queste leve perché non sono le classiche leve come gli altri scooter bensì sono più cicciottelle sono più larghe qua adesso vi faccio vedere bene grazie a tutti Grazie a tutti.